Amici miei bentornati ancora una volta qui sul canale, come state? Fanno sapere qui sotto nei commenti oggi super video dedicato ai gadget perché ne vediamo ben 20 perfetti per i vostri smartphone nello specifico forse anche nel titolo avete letto iPhone perché ci sono molti gadget MagSafe ma seguite tutto il video perché effettivamente poi li potete utilizzare praticamente per tutti quelli che volete mi raccomando però un bel like, iscrivetevi al canale perché poi prossimamente sappiate che usciranno altri video dedicati ai gadget che vi faranno proprio impazzire, ho delle chicche secondo me super interessanti detto questo partiamo subito con uno dei miei preferiti che appunto potete utilizzare anche con altri dispositivi per esempio con il mio, lo tengo in tasca, con il mio S23 effettivamente lo posso usare questo gadget vi faccio capire subito di che cosa si tratta anche se vedendolo già così vi è abbastanza chiaro è un tripod o comunque un treppiedi MagSafe super utile perché? beh perché è piccolo perché se io lo chiudo è veramente piccolissimo e riuscite a portarlo praticamente senza problemi ma anche perché effettivamente grazie al MagSafe vi evita diciamo quel supporto AC che a volte è veramente fastidioso soprattutto perché dovete allargare, poi incastrare il telefono eccetera eccetera forse è più sicuro ok però è comunque molto comodo e regge bene perché il magnete qui è molto interessante potente poi ha questa parte diciamo in silicone che diciamo fa più grip ecco con lo smartphone e secondo me funziona molto bene come vedete è bello stabile effettivamente perché appunto ha questi piedi belli larghi che vi permettono di metterlo in maniera abbastanza sicura su tutte le superfici diciamo piane effettivamente perché poi è un treppiedi non troppo diciamo adatto alle superfici un po' più complicate e poi ha pure un piccolo telecomandino che sinceramente è magnetico bello sì ma non ho proprio utilizzato vi escono comunque le batterie in confezione se vi piace lo potete fare però la chicca è qui è nel supporto diciamo MagSafe e come dicevo o con una cover come quella di Pitaka potete utilizzare anche per il vostro Samsung e così via oppure effettivamente con un semplice anellino potete praticamente adattarla a tutti i gadget comunque a tutti gli smartphone che preferite e se volete un supporto così comodo è veramente perfetto anche perché è anche selfie stick cioè vi fa anche da selfie stick quindi si allunga abbastanza ed è veramente diciamo ottimo secondo me sotto questo punto di vista lo sto utilizzando per i vlog per il lavoro e mi dà veramente tante soddisfazioni e poi il vantaggio del MagSafe è che effettivamente potete piazzarlo subito in orizzontale oppure staccarlo e metterlo in verticale per video magari su TikTok e tutto quello che volete un prodotto veramente ottimo anche con un buon rapporto qualità prezzo non aspettatevi chissà che materiali ma ci siamo secondo me veramente ottimo super consigliato detto questo passiamo alle cover per toglierci un capitolo un po' più diciamo esclusivo ad iPhone io ne ho provate un bel po' e vi faccio questa panoramica anche perché so bene che molti siete alla ricerca di cover e mi avete fatto in realtà delle domande proprio su Instagram ok io qui ne ho un po' ne stanno arrivando altre ne proverò altre magari poi vi aggiornerò ma per il momento parliamo di quello che effettivamente ho provato ok partendo da quelle in silicone che a me piacciono ma partiamo subito dal fatto che come ho sempre detto queste trattengono un po' di polvere ovviamente rispetto a tutte le altre cover perché è proprio il materiale che tende a trattenere queste due sono di Elago sono MagSafe e devo dire che in generale il MagSafe di Elago è bello resistente bello potente veramente ragazzi mi ha dato belle soddisfazioni rispetto anche a Spigian che all'inizio mi ha fatto un po' storcere il naso poi dopo un po' ho capito che effettivamente è proprio la canavido comunque magari il materiale che grippa meno ma dopo ne parliamo e quindi super soddisfatto per quanto riguarda Elago e ve le consiglio soprattutto sotto questo punto di vista per il rapporto qualità prezzo costano il giusto secondo me e se vi piace il diciamo come si tengono effettivamente in mano queste cover in silicone quindi piace questo materiale nell'utilizzo quotidiano secondo me ci può stare potete provare secondo me passiamo a quelle trasparenti quale scegliere quello che volete quello che trovate in offerta quello che vi prendete perché in questo caso il magnete funziona bene e sono due cover che vanno bene poco da dire ingialliscono sì per esperienza ve lo dico sì ma dopo un bel po' di tempo e reggono tutte e due più o meno allo stesso modo sono resistenti sono fatte bene come vedete ho utilizzato un po' di più quella di diciamo Elago che è un po' graffiata ma regge rigida nel posteriore e il magnete funziona bene per entrambi in questo caso quindi ottimo fate un po' voi la scelta in base a quella che costa meno in un certo senso partiamo poi con quelle o comunque continuiamo con quelle che preferisco forse un po' meno queste due di Elago una un po' più rugged a me questo design sapete che non piace tantissimo però ad alcuni piace e potrebbe essere interessante valutate un po' in base al prezzo trovate tutti i link sempre in descrizione da questa parte invece c'è questa che è un po' più simile a quella di Spigen è un po' più carina questa qui esteticamente però diciamo un po' più minimal se vi piace prendetela ci sono diverse colorazioni vedete un po' voi per il resto funziona bene poco da dire il magnete però qui è un attimino più cioè meno potente rispetto ad altre cover magari appunto è proprio il materiale posteriore che grippa un po' meno con i magneti appunto per esempio di alcuni gadget in questo caso però vi dico che questa ha un magnete che non è potentissimo appunto sempre per lo stesso discorso che vi ho detto più e più volte ma è bellissima la trovate in diverse colorazioni e ha questo look vecchio mac che fa la sua figura ragazzi c'è poco da dire è molto bella e veste bene effettivamente con lo smartphone quindi ve la posso consigliare se vi piace questo questo design l'ho provata a rossa l'ho provata in questo verde questa verde secondo me è la più bella fate un po' voi le scelte ma molto carina e poi c'è questa che in realtà avevo anche per il mio iphone 14 pro bianca è più bella però c'è nera ce la prendiamo così molto carina c'è questo design un po' stile nothing secondo me cioè secondo me alla fine quello è però molto carino molto carino secondo me ci sta se vi piace questo design un po' più tech ci sta e qui il magnete anche funziona un attimino meno vi ripeto secondo me è proprio un discorso di materiali per quanto riguarda invece le cover in pelle andate su mugio io per il momento ho provato questa le conosco ormai da anni le utilizzo da anni sono ottime ottimi i tasti ben realizzati non si muovono non fanno rumori strani quindi top anche in questo caso c'è il mag safe però non lo considero proprio perché avendo già lui un portafoglio integrato per quanto riguarda questa versione è inutilizzabile praticamente il mag safe però per il resto è un ottimo cover in pelle che fa la sua figura ci sono soluzioni però senza magari il portafoglio che permettono di sfruttare anche il mag safe nel migliore dei modi e c'è una versione anche un po più resistente che però ancora devo provare effettivamente quindi non vi so dire parlando sempre però di protezioni c'è da dire che sono anni che utilizzo queste pellicole di spigen ve le consiglio soprattutto perché in confezione 1 me ne escono due hanno un ottimo rapporto di da prezzo e 3 hanno questo gadget che appunto in poche parole si applica direttamente sullo smartphone e vi permette di applicare la pellicola in pochissimo tempo in modo efficace e sbagliando effettivamente meno quindi ottimo secondo me molto comoda efficace e ve la consiglio mi ha salvato dall'altro anche l'iPhone se mi seguite lo sapete perché ho fatto volare letteralmente l'iPhone 14 Pro senza di questo avrei spacchiato effettivamente tutto ma va bene poi c'è questo gadget che ha molto interesse me l'avete chiesto in molti l'ho provato un po' di tempo fa questo sinceramente non l'ho proprio applicato sul mio iPhone ma lo conosco fidatevi di me magari provateli un attimino però effettivamente io non lo preferisco in un certo senso perché mi va ad ingrossare troppo le fotocamere proteggono ma non lo so ok fate un po' voi se volete stare super super iper mega sicuri provatele acquistatele perché comunque hanno un buon rapporto qualità prezzo ok io vi ripeto le ho provate un po' di tempo fa sul canale c'è sicuramente un video se mi ricordo ve lo lascio qui sotto ve ne escono due in confezione di queste coppie diciamo qui mio padre per esempio le utilizza e si sente più sicuro se volete sentirvi più sicuro più sicuri beh compratele perché potrebbero essere delle ottime soluzioni proseguendo andiamo sui power bank power bank mag safe e non allora il discorso dei power bank è veramente lungo ma noi lo accorciamo il più possibile ne ho provati un po' ho quello di spigen ho quello di moft ho quello di anchor ho l'altro di anchor con lo stand e poi ho quello di banks tra questi sinceramente io elimino quello di spigen se lo trovate ad un buon rapporto di apprezzo ci sta ma esteticamente magari è quello che mi appaga un attimino meno quindi lo tolgo effettivamente però è efficace funziona bene e non c'è proprio cioè non vi da problemi ecco quindi ci sta provatelo se lo trovate ad un buon prezzo comprate lui ok rispetto anche agli altri se lo trovate magari ad un prezzo inferiore comprate lui perché comunque 5000 mAh vanno e vanno benissimi in un certo senso ed è affidabile come prodotto però questi qui li preferisco per estetica e stop per estetica ragazzi principalmente perché poi questi due sono tutti e due dai 5000 mAh mentre gli altri uno è più piccolo l'altro è più grosso allora quello di moft mi piace perché è super sottile super bello perché è realizzato in pelle e perché effettivamente matcha benissimo con gli iphone cioè è proprio piacevole da utilizzare però non ha una batteria enorme diciamo che è un aiutino non è un power bank è più un aiutino nel quotidiano che però è figo per la sua modularità perché come vedete potete incanciare anche il portafoglio sempre di moft e utilizzarlo magari nella sua versione stand in un certo senso quindi ha questa versatilità questa modularità che a me piace però non lo considero proprio un power bank power bank per stare tranquilli nel quotidiano se volete una carica in un certo senso questo vi aiuta e può essere utile se vi piace la modularità ve lo consiglio se invece volete il top del top per quanto riguarda la batteria e avete attenzione un pro max perché se no non ve lo consiglio tantissimo funziona bene però è un po' troppo grosso e a volte sborda un po' di più nella parte più in basso quindi va un po' oltre il bordo da questa parte invece a volte non si aggancia proprio benissimo per il posizionamento delle fotocamere quindi va bene ma se volete la diciamo massima potenza lato power bank mag safe andate su uno come quello di banks da 10.000 mAh che poi vi fa anche da power bank visto che ha un'entrata usb c e una usb e tra l'altro questo ha pure uno stand integrato vi fa pure il caffè questo qua in poche parole però con i pro max come vi dicevo regge un attimino meglio come vedete e vedete che non sborda e va benissimo sotto questo punto di vista lo potete utilizzare anche in orizzontale e va benissimo come vedete poi si carica molto carino ed è efficace proprio per la sua batteria ok quindi ottimo da questa parte invece questi due invece ve li consiglio per soprattutto questo per anche i pro questi sono tutti e due da 4000 da 5000 mAh questo c'è lo stand questo no sono di Anker hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e vanno benissimo esteticamente sono super piacevoli hanno questo materiale un po soft touch che è molto piacevole da tenere in mano e quindi valutate un po' voi questo qui forse è un po' meglio sempre per i pro max sempre nel discorso della grandezza però è super sottile come a prescindere quindi ci sta funziona bene va bene così questo è proprio adatto a tutti questo è adatto a qualsiasi dispositivo lo potete utilizzare anche su dispositivi Samsung se io infatti faccio così no questo ce lo scarico però vi faccio vedere che se io ecco questo è carico faccio così lui va in carica tecnicamente dovrebbe andare ecco vedete quindi a prescindere come vi ho detto li potete adattare un po' a tutti i dispositivi basta un anello mag safe da mettere poi nel posteriore ok proseguendo power bank e ricarica se volete un power bank invece standard per il vostro iphone per avere proprio il top del top lato ricarica andate di new come sempre ve ne ho parlato più volte quindi vado in maniera abbastanza spedita mi piacciono perché sono affidabili costano il giusto hanno uno stand anche qui integrato che a volte è utile in questo caso due entrate usb una type c eppure una torcia e poi hanno questo display nella parte anteriore che vi permette di avere appunto sicurezza lato proprio percentuale di batteria rimasta all'interno del power bank quindi veramente ottimo cavo e alimentatore vi consiglio questo piccolo alimentatore di ugreen ormai lo utilizzo da un anno se non sbaglio una cosa del genere forse un po' meno ma in realtà utilizzo il brand da un sacco di tempo ora sto provando anche altri prodotti sempre del brand ed è efficace funziona bene affidabile 30 watt in questo caso quindi potete utilizzarlo anche per ipad ed è piccolissimo comodo in giro e non anche perché lo mettete nella presa e poi occupa poco spazio mi piace un sacco e ha il giusto rapporto di apprezzo in offerta poi è praticamente quasi regalato per finire come cavo questo qui di baseus mi avete chiesto se funziona anche come diciamo cavo per agganciare ipad dal monitor vi rispondo anche qui no però è abbastanza veloce per quanto riguarda la trasmissione dei dati è bello duro bello diciamo resistente realizzato bene ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo quindi questo kit è un po' più standard ma sicuramente praticamente adatto a qualsiasi esigenza power bank presa da muro e cavo usb c usb c ovviamente perché ora abbiamo la usb c sui nostri iphone ucci proseguendo parliamo di memorie perché quest'anno con iphone grazie alla usb c possiamo parlare di memorie e vi consiglio per registrare video in progresso con log eccetera eccetera questi qui di sandisk perché sono quelli che vanno sempre di più in offerta e li trovate ad un prezzo più accessibile ok quindi top del top sotto questo punto di vista se volete invece una piccola pennetta per i vostri dati prendete sempre questa qui di sandix club è piccola perché è ottima per la portata prezzo e poi ha sia la usb da una parte che la usb c quindi super super efficace e sicuramente utile non solo appunto per iphone ma anche per samsung e non solo tutti i dispositivi che volete la usb c ormai è dappertutto quindi riusciamo ad adattarci un po a tutto per quanto riguarda invece i gadget mag safe utili nel quotidiano sapete bene che io vado matto per questi portafogli mag safe e per questi piccoli anelli beh cosa vi posso dire c'è questo di spigen con il supporto diciamo questa parte diciamo a stand e c'è quello di moft tra i due sono sincero con voi preferisco di gran lungo quello di moft perché è proprio piacevole utilizzare è efficace ha un ottimo magnete c'ha la modularità di cui parlavo prima e funziona benissimo questo qui però è interessante se avete magari una cover poi in diciamo quel finto carbonio si abbina un attimino meglio vedete un po voi in base al prezzo quale preferite ovviamente nulla di troppo esagerato da dire sono ottimi prodotti mentre per quanto riguarda questi anellini vi consiglio sempre quello lì super economico di anchor perché effettivamente è efficace fa quel che deve e mi dà belle soddisfazioni ancora esiste in bianco in tantissime colorazioni e poi c'è quello di spigen che in questo caso però vince perché non solo vi fa da stand da anellino per tenere meglio lo smartphone in mano ma potete utilizzarlo anche come supporto per i vostri macbook quindi lo mettete di così e siete belli tranquilli in un certo senso che potete utilizzare l'iphone come webcam del vostro mac secondo me un ottimo prodotto soprattutto per il rapporto di da prezzo anche qui e arrivati a questo punto ragazzi siamo arrivati praticamente alla fine video come sempre abbastanza lungo però abbiamo mostrato secondo me tutti quelli che sono i gadget utili per i vostri dispositivi ad oggi quelli che secondo me potreste utilizzare di più o che comunque io utilizzo di più nel quotidiano mi raccomando fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e magari anche qual è il gadget che utilizzate di più con i vostri smartphone quindi